ciao a betes.it donne e potere che sono anche poi vive e oscar che poi è il potere del cinema allora stanno arrivando sono arrivate queste ragazzacce sullo scranno però sullo screen e sullo scranno lo scranno è duro da gestire come lo screen e la regina ovviamente è una diva come ricorda anche Freddie Mercury in questo caso però donne 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 non un uomo un bellissimo gay un dentonissimo gay donne 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 e alcune sono arrivate alcune arriveranno e poi siamo sempre in Inghilterra e poi siamo sempre nel passato e poi siamo sempre tra le casate della dinastie delle dinastie inglesi adesso esce Maria Regina di Scozia e la settimana prossima esce la favorita di Yorgos Lantimos che è favorito rispetto a Maria Regina di Scozia ed è un po' un cocchetto è un po' un cocchetto che arriverà forte anche agli oscar tre lì Olivia Colman Emma Stone Rachel Weiss e infatti è un gioco a tre e infatti è un menage a trois due qui Sir Cironan e Margot Robbie l'Inghilterra con la sovrana che è riuscita a diventare per la prima volta regina di Gran Bretagna all'inizio del diciottesimo secolo primi anni del 1700 nella favorita di Lantimos no qui siamo più trono di spade ragazzi qui siamo più villici qui siamo più pietrosi perché è un'Inghilterra della seconda parte del sedicesimo secolo ok e adesso arriviamo al dunque è l'esordio della regia cinematografica di Josie Rourke una regista di teatro molto molto affermata in Gran Bretagna e che film è? non è un bel film o comunque è un buon film ma non è un bellissimo film mettiamola così è un film però interessantissimo soprattutto da studiare e da vedere e da riflettere in relazione alla favorita di Lantimos allora queste due qua c'è appunto Eva contro Eva o meglio Maria Stuarda contro Elisabetta e abbiamo quindi Sir Cironan contro Margot Robbie ma mentre nel film di Lantimos è tutto un gioco tra ragazze che fa anche capire o comunque decide di farci capire perché un film è sempre una presa di posizione e può essere non storico ovviamente non è un trattato storico è un'opera artistica se le cose vanno bene e però ha sempre una posizione ok e quindi la posizione del film di Lantimos è quelle ragazze era una questione loro privata qui invece c'è un discorso legato a noi e loro e quindi è legato ancora a un mondo maschile che in un certo senso si mette in mezzo come tra Maria Stuarda interpretata da Sir Cironan e Elisabetta I interpretata da Margot Robbie allora è tratto da una biografia totalmente pro Maria Stuarda che in passato è stata è stata quella signora in bianco e nero che vedevamo io vedevo che ti fanno vedere in tutti i corsi di cinema perché è uno dei primi film è uno dei primi microfilm della storia a 1895 l'esecuzione di Maria Stuarda era ancora quel momento in cui la locomotiva ci sta venendo addosso quella donna è stata uccisa realmente oh ma è veramente Maria Stuarda ma come facevano ad avere Edison come facevano ad avere le macchine già all'epoca no allora perché era il XVI secolo è uno dei primissimi esperimenti di audiovisivo quindi per noi è importante dal punto di vista storico e con un semplicissimo effetto di jump cut quindi di montaggio sull'asse ovviamente non si decapitava una signora però oh che paura il cinema era arrivato il cinema che figata e quindi Maria Stuarda subito con la testa tagliata perché? perché la testa tagliata di Maria Stuarda già era un fatto storico molto importante per la nostra umanità poi al cinema cinema 1936 Maria di Scozia di John Ford con Catherine Hepburn tostissima Maria Stuarda Fulva e poi nel 1940 un film di propaganda tedesca durante la guerra non male poi nel 1971 perché no Vanessa Redgrave Sellerona contro Glenda Jackson in Maria Stuarda Regina di Scozia e poi abbiamo visto una Maria Stuarda anche un po' così Samantha Morton nei due Elizabeth dove Elizabeth era più Maria Stuarda Elizabeth di Kate Blanchett che non Maria Stuarda di Samantha Morton ma vabbè ci stiamo perdendo e 1998 Capur il primo Elizabeth e poi 2007 il secondo Elizabeth con Kate Blanchett ok allora queste due erano cugine ma non parliamo di storia anche perché non sono uno storico a malapena faccio il critico cinematografico però mi è venuta una gran voglia di leggere la biografia di John Guy perché era adorata Jane Austen e Maria Stuarda era una sorta di simbolo proto-femminista in questo film l'idea è che interessante più che riuscita che Sir Cironan sia la femminilità è un inizio di femmina al potere senza nascondere tutte le qualità del femminile quindi magari una maggiore propensione empatica all'altro nei confronti dell'altro rispetto a noi mascoletti e quindi è una Maria Stuarda che torna in Scozia dopo i suoi primi anni in Francia è molto giovane e c'è Elisabetta Prima a Londra e lei invece si andrà a mettere a Hollywood no a Hollywood che però sembra un po' Hollywood e cioè in Scozia nel palazzo di Venite a Hollywood che è un po' la Camelot della Scozia lì Sir Cironan in mezzo a un ambiente più de pietra e più spartano anche se non siamo a Sparta però un po' così è rispetto a Londra Londra già è un po' più elegante come corte diciamo che Josie Rourke non inquadra tanto bene i paesi la Scozia sono due valli sempre fatte con i cavalli al terzo establishing shot delle valli della Scozia ho pensato ci vorrebbe qui veramente Iwan McGregor di Trainspotting che si arrabbia perché fai vedere proprio che sono due valli la Scozia mentre l'Inghilterra non esiste se non la corte ok ma l'idea è di far vedere queste due donne che entreranno in un contrasto non si vedono quasi mai però l'idea è che Maria Stuarda sia femmina femmina alla ricerca del sesso alla ricerca dell'amore alla ricerca della passione e alla ricerca del potere mentre Elisabetta è una sorta di donna privata di tutte le caratteristiche della femminità a partire dalla maternità a partire dalla sessualità cioè lei sostanzialmente non lo vuole fare e poi è tutta è tutto un film sul come sei bella naturale e io me devo rifà che è un po' un contrasto tra le nostre adorabili signore a volte e cioè proprio appunto penso che loro potrebbero sentirlo molto da un punto di vista estetico come noi maschi possiamo sentire molto i film sulla contrapposizione dei corpi muscolosi rispetto a corpi più gracilini allora qui c'è l'idea del quanto sei quanto rosico che sei bella naturale e io invece mi devo continuamente rifare ma è già tardissimo ma non capiamo molto di alcuni intrighi di palazzo a volte un po' troppo gustiparo questo film avrei voluto che fosse un po' più certamente anche un critico come me può arrivare a pensare che Davide Rizio o Riccio il famoso menestrello di Maria Stuarda che ha un ruolo storico molto importante alla sua corte è difficile immaginare che Ismael Cruz Cordova possa essere un piemontese come era il nostro Davide sì perché dal Piemonte non si sa come arrivò in Scozia la Maria Stuarda perché è difficile immaginare che Ismael Cruz Cordova possa essere un piemontese come Davide Rizio perché è portoricano e si vede e quindi anche là ci arrivo pure io al fatto che forse storicamente non siamo stati molto accurati a volte a volte è un po' troppo cussipparo a volte è un po' troppo trono di spade senza che si senta il trono senza che si senta la spada a volte è un po' troppo fotoromanzo di corte non sento la religione anche se ogni tanto soprattutto Maria Stuarda si arrabbia e dice perché lei era cattolica però ho sentito il gioco attoriale e ho sentito l'intelligenza al lavoro di Margot Robbie che è un'attrice che io amo moltissimo perché è partita come al lupaggio è partita per allupare in chiave veramente fracica noi mascoli lupetti in Wolf of Wall Street di Martin Scorsese e vi ricordate Margot come se la sente come se la sente calda proprio e poi ha detto ok devo fare come Charlize Theron cioè devo mostrificarmi per andare a vincere l'Oscar è diventata un po' troppo Anne Hathaway in Suicide Squad ma era una delle poche cose che mi hanno tenuto sveglio non solo per il corpo per l'attitudine al lavoro il cervello al lavoro di Margot Robbie con I, Tonya Tonya per noi italiani ha fatto un errore clamoroso strategico che la sua Elisabetta prima non l'avrebbe mai fatto si è circondata di personaggi più interessanti rispetto alla sua patrinatrice Frozen brutto natroccolo Frozen che avrebbe dovuto portarla all'Oscar quindi ha avuto la nomination ma non ce l'ha fatta e ha vinto sua mamma che era Long John Silver col pappagallo sulla spalla Margot io ti voglio bene errore però è un'attrice che io adoro qui è Miguel Bosé un Miguel Bosé ho detto ma chi mi ricorda chi mi ricorda chi mi ricorda c'ha sempre sto naso un po' rifatto poi si mette spesso di profilo c'ha il vaiolo è sempre brutta Margot Robbie e bisogna far risultare strafica Sir Cironan questa è l'idea Josie adesso mi rivolgo a te non ce l'hai fatta nel senso che Sir Cironan Sir Cironan è un problema è troppo lunga mi piacerebbe perché io amo molto le donne e mi piace tanto cercare di mi piacciono le attrici entrare dentro di loro anche solo purtroppo metaforicamente però Sir Cironan è un problema perché non è non è non è quella che sta al primo banco che vuoi uccidere e c'hai anche ragione nel farlo come Natalie Portman e Emma Watson è diverso magari sta al secondo banco però Sir Cironan è un problema perché è sempre uscita dal signore degli anelli io non riesco a darle una concretezza terrestre quindi però lei è una cocchetta dai tempi di espiazione dove infatti era stranissima ed era pensate era la piccola Vanessa Redgrave Vanessa Redgrave è stata Maria Stuarda in uno di quelli che abbiamo neccato qui è una Maria Stuarda che dovrebbe essere più bella di Margot Robbie Margot Robbie ci sta ci va perché lei dice basta basta lupare in modo fracico quelli là l'ho fatto voglio Margot è intelligentissima ed è io penso che lei arriverà la nomination all'Oscar Sir Cironan no perché cioè io non posso fare il tifo per una passionale che in realtà è Sir Cironan dove io vedo il calcolo mentre il calcolo io in Margot Robbie non lo vedo perché è un'attrice più brava secondo me adesso l'ho detta poi Sir Cironan gli voglio bene è una cocchetta c'è avuto tre nomination arriverà però qui io non posso non posso perché è un è un non riesce mai a farmi pensare che lei viva quel momento è molto distaccata non è insopportabile come Natalie Portman Emma Watson poi Natalie Portman io le voglio un bene dell'anima ma non puoi stare sempre al primo banco e io lo sento questo sta al secondo banco ed è o forse addirittura non è nemmeno a scuola con noi perché fluttua in aria e noi la vediamo dalla finestra di scuola e che passa Sir Cironan non sta nei nostri banchi non sta alle interrogazioni con noi non fa i compiti come noi e allora non puoi essere Maria Stuarda che ci ha avuto anche appunto il momento che stacchete spoiler ricordatevi la cosa impressionante del 1895 invece Margot Robbie lavora lavora ma lavora dietro le quinte davanti ai nostri occhi è un Miguel Bosè bellissimo di un po' di tacchi a spillo di Almodovar c'ha il profilo che è Miguel Bosè uguale proprio stupenda se sdruma se rovina per non farci ricordare quanto c'ha lupa in chiave etero ed è un'attrice che io amo moltissimo molto più di Sir Cironan e va bene e penso che lei arriverà alla nomination anche se le favorite sono le favorite della favorita che è un film cocchetto l'abbiamo già capito ai tempi del di Venezia dove ha vinto anche un po' troppo Maria Regina di Scozia siete la cosa più vicina a mia moglie a una moglie che io posso avere questa non è male è gay attenzione ai gay qua chiudiamo cioè il grande problema di Maria Regina di Scozia è un problema che avete voi amiche di oggi etero siete circondati da maschi che ambigui non più etero truciti come quelli del novecento che avevano due mogli tre soprattutto in Italia avevano un lavoro forte avevano due amanti due mogli e facevano felici tutte perché erano dei veri maschi etero no siete circondati da questi uomini sfuggenti vittime del precariato che ha cominciato la mia generazione che non hanno più quel potere in società quindi completamente devirizzati che stanno andando via da voi e quindi è un film che mi ha fatto troppo ridere perché è un film dove il problema di Maria anche è individuare diciamo un vero stallone perché è tutto cioè attenzione attenzione perché c'è sempre un gay dietro l'angolo e ci può essere sempre un gay dietro un aspetto da etero e questo è un film e questo racconta oggi secondo me il problema di tante donne soprattutto italiane che ha cambiato tutto va bene Maria Regina di Scozia Ale Vince Margot Robbie contro Sir Cironan la sderena ciao betteist grazie a tutti grazie a tutti Grazie.